In occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna è previsto un contributo per la partecipazione al voto per gli elettori sardi iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero, per quelli che hanno in corso la procedura di iscrizione attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato Estero di Provenienza, per i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e per i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della Nato dislocate all'estero. Il contributo, previsto dalla legge regionale 12 marzo 1984, è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute fino a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei. La documentazione deve essere compilata dall'elettore sui modelli disponibili e consegnata al Comune di appartenenza. Tutte le informazioni e la relativa documentazione sono disponibili sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna.